Benvenuti cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna di oggi, oggi è venerdì 12 di gennaio e siete su un canale 17 per seguire la lettura dei giornali, tra poco daremo un'occhiata ai titoli delle notizie più importanti di oggi. Vediamo però prima il santo del giorno, oggi la chiesa ricorda Santa Margherita Bourgeois, fondatrice, è morta il 12 gennaio del 1700, il sole sorto alle 7.40 e tramonterà alle 16.53. Vediamo il tempo per oggi, eccolo qua, con la protezione civile delle Marche nel sito della protezione civile, il bollettino che prevede per oggi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio nelle zone interne e deboli ed isolate sulla fascia costiera, il limite delle nevicate è attorno ai 1000 metri. Le temperature sono in aumento quelle minime e le massime invece stazionari oppure in lieve diminuzione. Per la giornata di domani, sabato 13, avremo un cielo parzialmente nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo, domenica 14 ancora pioggia con precipitazioni nel pomeriggio e brevi isolati rovesci. Ci saranno temperature in lieve diminuzione. L'inizio della prossima settimana avremo dei fenomeni di instabilità, seguito da un episodio di Garbino, quindi ancora vento caldo per il giorno di mercoledì. Allora, vediamo subito i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, che è in avvenimento come sempre a 1.20 con il Messaggero. Allora, due giornali in uno. Corriere Adriatico che apre e titola così l'edizione di Pesaro, il mercato delle erbe sarà il tempio del food, del cibo. Il sindaco Matteo Ricci lancia il dibattito sul futuro del San Domenico. Intanto le bancarelle sono destinate verso via Bruno. Sotto invece la sicurezza ora è su Facebook, ladri messi in fuga con i social. La pagina di Fano invece, eccola qui con in primo piano il Carnevale di Fano. Presentato il programma, presentato il Carnevale del 2018. Niente biglietto, dieci carri, ma sono nuovi soltanto la metà. Presentato appunto il Carnevale, il via ieri con il Consiglio dei Bambini nei Cappannoni. Il primo corso mascherato, e questa è la novità, se vogliamo anche una novità, certo, è che sarà dedicato al Buloni, il secondo, il terzo a Pesaro e Urbino, però c'è da dire che nella prima sfilata, durante la prima sfilata, non verranno gettate caramelle ma soltanto cioccolate. Che cosa ne pensate? Questo sarebbe interessante da chiedere ai nostri telespettatori. Soltanto cioccolate, non caramelle, nel primo getto. Importante invece ricordare che l'ingresso al Carnevale domenica 28 sarà gratuito e poi ci sono tante altre novità, insomma, che potrete leggere sul giornale di oggi, il Correo Adriatico, in questo articolo scritto da Massimo Fogheti, un decano dei giornalisti fanesi che tra l'altro ne ha visti tanti di Carnevali, quindi è uno che ha senso critico e può davvero dire meglio di chiunque altro la sua su questa antica manifestazione. arte figurativa invece, canto e musica per combattere l'Alzheimer. Sempre sulla pagina di Fano, al centro Margherita, gli ospiti hanno registrato un cd musicale e hanno esposto le loro opere. Queste sono alcune fotografie che ritraggono appunto questi momenti. Un cd dove all'interno ci sono delle canzoni sempre verdi, evergreen, di Natale e anche una mostra. Verrebbe da pensare alla produzione di un performer multimediale, invece si celebra l'insospettata vena espressiva degli ospiti del centro diurno appunto Margherita. Ci sono 86, scrive Andrea Maduzzi sul Correo Adriatico, 86 attualmente i fruitori del centro dalle 4 ore fino alle 10, da lunedì al sabato e tutti coinvolti in attività importanti, non banali. L'isola che non c'è invece, parliamo di questa scuola dell'infanzia che riapre questa mattina, mentre riaprirà lunedì la scuola Albero Azzurro che è chiusa da mercoledì dopo la rottura dell'impianto di riscaldamento. Solo l'isola che non c'è, che è nello stesso complesso ma in una parte che non è più interessata dai lavori, verrà riaperta questa mattina. Ci sono stati il nevone e il terremoto, ma gli accertamenti non sono finiti. Il Comune si riserva una decisione sui tetti della Profiglas, la perizia scovata dopo una caduta mortale. Gli autori dell'esposto paventano un rischio per il montaggio errato del fotovoltaico, mentre fotovoltaico, mentre la ditta nega. Dunque si parla di, ecco questo è il punto dove il Corriere Adriatico evidenzia il punto del tetto in cui precipitò l'operaio morto il 9 marzo del 2017, l'articolo di Lorenzo Furlani. Nuova palestra invece, andiamo a Colli al Metauro. Nuova palestra, c'è il Via Libera, la giunta di Colli al Metauro ha approvato i progetti esecutivi, le opere migliorative, la struttura sostituirà quella controllata con il nevone nel 2012, lavori da 800 mila euro. Aguzzi, il sindaco di Colli al Metauro, dice accordo tra comuni e privati a costo zero per realizzare intorno a 140 parcheggi. Andiamo adesso invece sulla pagina di Urbino del Corriere Adriatico. La casa nuova non si costruisce con professionisti delle macerie, città ideale che stiletta ai DM quando si perde ci si deve fare da parte, insomma questa è la politica sulla prima pagina di Urbino del resto del Corriere Adriatico, mentre si parla di sicurezza, la sicurezza partecipata 2.0, così i ladri vengono messi in fuga, l'abbiamo visto in apertura in primo piano sulla prima pagina del Corriere, sono stati sventati tre furti nella Val Cesano, tempestive le segnalazioni sui social rilanciate alle forze dell'ordine. Diversi centri nel mirino delle bande criminali aumenta la vigilanza spontanea dei cittadini, c'è chi usa Whatsapp, c'è chi usa Facebook, insomma sono tanti gli occhi aperti e tante le segnalazioni di auto di un certo tipo, viste magari in un certo luogo a una certa ora, che destano come dire preoccupazione, quindi questa preoccupazione viene condivisa e insomma è un modo per tenere certamente un po' gli occhi aperti su quello che è il territorio, insomma più occhi oltre quelli delle forze dell'ordine. Poi è chiaro come sempre vanno informate tempestivamente anche le forze dell'ordine perché poi sono loro che devono intervenire. Torna operativa la distribuzione di frutta e verdura, il gruppo MoMA 5 ha reperito una nuova sede a Marotta grazie ai consiglieri regionali, quindi si stanno ultimando i preparativi per il taglio del nastro di questa sede che si trova in via Litorania 317 a Marotta. Poi da Urbino, torniamo di nuovo ad Urbino perché guardate queste fotografie, riguardano uno stilista, Angelo Cruciani, 39 anni, con alcuni testimonial dei suoi lavori e questo stilista è di Cantiano e ha lanciato il brand IESAEL e ha appena firmato per un'altra ditta. In questo articolo parla del creativo che Suscai ha vestito in maneschine e ha lanciato il brand appunto IESAEL e quindi c'è questa intervista. Open Day invece dalla pagina da Fratterosa, Open Day mirato a promuovere i vantaggi del metodo Montessori, parliamo di scuola, domani aperte dalle 9 alle 13, la scuola dell'infanzia e la primaria di Fratterosa. Le due strutture sono le uniche che utilizzano dal 2013 questa didattica in provincia. E poi un grave errore da terre roveresche, un grave errore coprire la piscina di Orciano, la minoranza ritiene insostenibile mantenere aperti due piccoli impianti. Andiamo a Pesaro invece, guardate le fotografie del teatro Rossini che fascino il cinema teatro, scalpita l'esercito di comparse, arrivate da tutto il centro Italia come Benedetta e Stefano da San Benedetto e Marina da Spoleto. Il ciac per la scena centrale del film che si sta girando a Pesaro appunto quando Franco Nero abbandona improvvisamente il concerto. Il protagonista, burbero e impaziente, caratteristiche che la vita lo costringerà a cambiare. Lo spaccio, sempre da Pesaro, è mini, ma la droga è ovunque. I carabinieri hanno sequestrato 32 grammi tra marijuana e ascisci in possesso di quattro ragazzi per vendita e consumo coinvolti i parchi Miralfiore e quello della pace, ma anche la stazione di Pesaro e via Giolitti. Quartiere nel Mirino, i ladri vanno a segno in via Flaminia e falliscono il colpo in via Milite Ignoto. Ci sono anche qui tutta una serie di elenchi, di furti che sono stati messi a segno nei giorni, nelle ore scorse e devo dire che rispetto agli anni precedenti, rispetto agli anni scorsi, quando gennaio sembrava essere sempre comunque il mese un po' più tranquillo sotto il profilo dei furti, invece quest'anno credo che non ci sia stato nemmeno un giorno di pausa, sempre all'opera. Ecco il Carlino, ci vogliono i vigilantes a proposito di furti, razzie a rafica tombaccia, il racconto dell'agente di viaggio minacciato di morte dai ladri. E poi da Apecchio, da Apecchio il progetto di rilanciare, di investire in Valdimeti, mini re delle minerali, investo in Valdimeti ma ci diano più acqua. E poi ancora false società per fatturare l'OMARPEF, tutti a giudizio, il GIP sposa la tesi d'accusa, mancano 90 milioni. E poi sulle parlamentari, sulle politiche PD per le parlamentari uscenti, la dura sfida dell'uninominale, l'accoppiata Camilla Fabri e Alessia Morani, tramonta l'ipotesi dell'assessore delle Noci, a guidare il proporzionale Lucia Annibali, ma il sindaco vorrebbe un ministro. Fano, non si sa, gli alleati, insomma vedremo, tutti i giochi della politica. Allora, ecco la pagina di Fano invece del resto del Carlino, addio a Caramelle, debutta il Carnevale al gusto di cacao, solo cioccolatini nel getto, tra le novità anche il carro rossignano e la diretta radiofonica di RTL. Profilglas, investimenti per 100 milioni, l'azienda di Bellocchi diventa un colosso con Lamian, società per l'automotive. Poi, o l'automotive, non lo so, adesso bisognerebbe entrare nel dettaglio. C'è un ulteriore progetto, ma è ancora presto, storia passata quella di Calcinelli. Ok, andiamo adesso invece sull'altra pagina di fan del resto del Carlino, perché da Fossombrone, ecco qua, arriva la richiesta del comitato che difende i diritti dei cittadini di sospendere i lavori della REMS iniziate, anzi chiedono di abbatterla subito, perché c'è tra l'altro una delibera, una delibera del 13 dicembre scorso che dice che questa struttura va abbattuta. Lo dice anche Marco Bartoli, che però sottolinea come il cantiere sia ancora aperto in realtà. A Cagli invece, auto troppo veloci, periferia pericolosa, viabilità e sicurezza stradale, questo è l'articolo che troverete sempre sulle pagine interne del resto del Carlino. Chiudiamo con Urbino, Aufreiter si dimetta, fa il direttore del PD, l'evento del partito sulla legge Raffaello Sanzio allarga il divario 3-2, sgarbi contro il manager di Palazzo Ducale, la replica, allora vada via anche Trump. Bene, ci fermiamo qui, la rassegna stampa è finita, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata, vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie a tutti.